Per quello che Vincenzo era platino Hai ragione Gistiano Però io trovo che Darius sia un top laner da fight Parecchio forte Ciao Gabbo buonasera Bella Sartore Scudava anche CS E' bellissimo Alissine Mi divertivo un botto a giocarlo La ulti faceva molto più danno Non stava scritto a nessuna parte Che devi usare la W su te stesso Su un alleato per avere lo scudo Tu usavi la W su un minion e avevi lo scudo Perché non posso avere uno scudo Da W di Lissine se faccio il dash su un minion Tutte queste cose qua Era una pipa Allora sono una pipa anche adesso Bravo noob Ho la Gianculotto Quando è uscito Lissine pugno di vino Non me lo ricordo King Due anni fa forse Vabbè ragazzi mentre aspettiamo Vi ricordo che potete cliccare su abbonati Per abbonarvi al canale Oltretutto ci sarebbe anche da dire che avevo detto Che avrei fatto il giveaway di area gratis A 10 sub E ne abbiamo fatti 5 nella live di Dead by Daylight E altri 2 in questa live qua di League of Legends Ragazzi altri 3 sub E facciamo il giveaway di area gratis Eh Almeno un anno e mezzo fa Sì Da abbastanza tempo Season 6 comunque Pensava fosse plat per il successo ricevuto Prima ancora che la gente capisse che è scarso Bella Enrico La voglio La voglio Cos'è che vuoi Enrico Vuoi Eh Lissine No no Allora A me ispira un botto La nostra bottling Sinceramente Mi ispira un botto La nostra bottling Contro abbiamo Nidalee Chissà com'è giocare contro Nidalee Boh vediamo Aria Volete la gratis Ghistian dai Clicca su abbonati Lo so che sei indeciso Magari lo fai a qualcun altro Magari dici Cazzo ma è un ottimo investimento Sì che è un ottimo investimento Perché adesso l'aria è gratis E sembra scontato Ma Tra 30 anni Tra 40 anni 50 anni Sarà ancora gratis l'aria What? Eh rip Rip Che cazzo invade da lì Poi non lo so Con sta world brutta Poteva metterla Un po' meglio Io non ho il flash Ho fatto la cazzata Dire pull red E via Naso sun saint coin Beh così che molti lo giocano In realtà Non è del tutto sbagliato Ma sì Ma sì Pritian lucky comunque Ce ne faremo una ragione La partita può comunque di gran lunga migliorare Pronto? Sì? Eh buongiorno la signora Anna Sola Antigua Anna E volta Sì? Nuh Ah È routine È dobrze È Sì? Un как Sì? Ok Un invade ambiguo ma ce l'abbiamo fatta Ormai lo sapete che quando non parlo è perché sono concentrato Eh ma allora non è ancora capito alla lezione No non hai capito che non devi venire addosso a me Ficcatoli in testa che non puoi fightare contro Shaco Non puoi prendere un cazzo mi puoi prendere nulla niente Ah casa Regà l'abbiamo rotta comunque Spaccata smolecolata Spam in chat bravi raga Bravi spammate Li rompiamo tutti sti sfigati qua Dei centri sociali Gli sfigati dei centri sociali Uh uh ci vado è mia Lo so tanto che rimani lì Ah cazzo appena finito la wave Metti ce la fai è tua Dai non c'hai trastato Che cavo Mi lo diciamo Che Nidalee fa la furba da queste parti Eh adesso è mai bot Che casino che c'è in chat ragazzi Però non esagerate Che lo spam Almeno spammate le mie di emotto Ma che siete poveri sfigati del cazzo Spammate le mie di emotto C'ho delle emotte Che le invidia Perfino il papa francesco Vorrebbe le emotte Bravi raga Spammate le emotte Non come sti poveri Che non hanno le emotte Che schifo i poveri Che schifo i poveri Che non lo chifo i poveri Ah non credo che siano al Drake E non posso nemmeno guardare Posso trovare questo A casa Come cazzo c'è morte Ah ti pusho la lane Come c'è morta quella di Torre Boh Guardate che sto soffrendo Che l'altro cancro Little cancer Non ho mana purtroppo No aiuto Il piccione di Ash No Perché GP sta perdendo di farm Contro Nasus Forse perché non è il massimo Ma immaginavo che sto GP non fosse C'è aspettato fino all'ultimo per piccare A me non piace la gente che aspetta A me piace la gente che insta locca Di sicurezza proprio Ragazzi insta locca in Champ Select Non è che si aspetta Che cazzo è Mamma mia che bordello c'è in chat così Solo gente che spamma Però mi piace sapete Perché tanto io Non è che la chat posso cargarla più di tanto Mentre gioco Di conseguenza sono felice Quando vedo il casino Un bordello quello vero Bravi ragazzi Continuate così Mi raccomando Fate felice Il vostro streamer Come cazzo fa Mi fotte il blu Probabilmente No ok Viene qua Oh Do cazzo va quello Che cazzo What Oh Guarda io prendo questo Prendo anche questo Dove potrebbe gankare Nidali Bot lane Bella Gistian Grazie mille Del sub Bro Benvenuto Nella Felix Army Ti sei convinto Cazzo Hai sganciato il Prime Grazie mille Molto apprezzato Raga Fare il sub col Prime A voi non costa nulla E a me Evita di andare A fare il commesso Alla Conad Quindi vi ringrazio un sacco Per tutti i sub Che fate Allora non ganko Farma Prego Nasus Farmi pure Tanto che problema c'è Capisco GG top lane Nasus 2-0 Poi una kill Dove cazzo L'ha presa Nasus Soprattutto All'invade No non è stato L'invade Il nostro Troppliner Non ci aiuterà mai Cioè Sta sotto Tantissimo Nasus E non si sa Per quale motivo Gli stia così sotto Perché Che è Che è successo Oh GG mid Ti prego Sopravvivi Una buona notizia Ogni tanto ci vuole Mid è mid Faccio questi Ma dove cazzo vai Troia Sparisce Non è voluto fare il Drake Ma se nessuno mi appoggia Non lo faccio Oh regà Prendete qualcuno Vi prego No Ma il TV Logan Kaku Tu Ti lamentavi Che eri senza mana Tutto lo scudo E tutta la madonna In croce Ma come fai Con un pompa Se la neve viene Sotto casa vostra Baffa il culo La neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Che è un'azzo Donal Teleport Ui yes Alla chi Raga top mid fanno cagare Non posso fare proprio nulla Il top laner non esiste Non ho mai visto una sua ulti Perché ovviamente l'ho usata ai top prima di morire Basta, non posso fare nulla Boh già ecco ho detto di spammare La gente spamma Però ovviamente quando Negli intermezzi tra una partita e l'altra Nulla Italiano io provo Di no visto che comunque sto giocando bene Cazzo Oh raga si è bugata la barra spazzatrice Raga guardate Perché Ah ecco perché Sta attivata una marker È troppo rischioso Strattare il Drake così Cioè io lo farei anche Ma come faccio? Non so dove è la gente Cioè non possiamo fare un cazzo Sono sempre qua che giro onzola Oh GP sei vivo allora Non sei solo un miraggio Vai facciamoci sto inferno Ok Ok 6 e 40 Toglie il mio smile Dovrebbe essere una bella folla Tra pareti Di nuovo Di nuovo Sì Nasus è due livelli sopra Gigantesco Nasus è guy gigantesco proprio Due livelli sopra GP Mamma mia quanto toglie Non c'è nemmeno la Trinity Qualche altra parte No 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 pazza Lo foco alle tende Lo so anche se non le ho Le tende Lo foco alle tende cazzo Ho fatto un heal Perché c'era un blitz Con un trinchetto rosso attivo In quell'esatto istante Cioè potrei essere ovunque Dove essere lì Con il trinchetto rosso attivo Blitzcrank Volevo shottargli l'ADC Madonna santa Oh che sfiga Ho doggiato la ultilux Sì Lo so L'ho fatto apposta Perché so un po' Che mi arrivava qualcosa Nella schiena E volevo evitare Sta Nidale non sta facendo Un granché sinceramente C'è ha avuto molte più possibilità Di me di prendere Un obiettivo tipo Il Drey che non ha mai Approfittato Potremmo prendere l'herald 50 volte Non ha mai preso l'herald Nidale non sta giocando Per nulla bene Regà ma cos'è quel centri Anzi cos'è quel tizio Non quel centri Oh gg Il true Eh il true è reale ragazzi Sì Eh sì Il true è reale Il true è reale Nooo L'ho fatto troppo tardi Sono un idiota Unlucky Ok vabbè lo stesso Amen Cosa ho usato Una ulti che mi respawna Tra un minuto Amen Non ci ho fatto caso Ho troppo gasato Per l'azione Comunque ripeto Nidale sta giocando male Cioè Seriamente Con un Nasus così Quanto ci mettevano a fare Quel coso lì Senza poter essere contestati Cioè pensate voi Ah ma meglio Cioè mi fa capire Che Nidalee non è molto ferrata Nel suo ruolo A livello di obiettivi Io ho letteralmente camperato La bot lane mid Appunto per il Drake E alla fine ce l'ho fatta Appunto Senza il mino problema Poraccia Eh vabbè dai Come si possono avere Le motte di Fieri Che vabbè Facendo abbonamento What? Vabbè non facciamo Non facciamoci domande Non facciamoci domande Di come quella A cui si è andata sul muro Questa Nidalee Osava anche essere Il livello più alto di me Cioè non so se ci rendiamo conto Questa Nidalee Osava essere Il livello più alto di me Ti conviene levarti dal cazzo Che io senza coppia Prendo il pisello in testa Da qui Che io senza coppia GG Poi vissi Eh Potrò scapparli Uh il mana Attenzione Cento di mana servono per il grab signor Blitzcrank Come va in chat? Bravi ragazzi Grazie lo spam Qualche altro sabbino ci sarebbe comunque Dai altri due per fare Per fare i rituali dell'aria gratis Ragazzi state tutti top e li ho regalate Alla Non vogliono collaborare i miei teammates Nasus è gigante purtroppo con quella build Il GP non doveva essere così permissivo Eh RIP NAMI RIP NAMI Ciao Ragazzi ma non avete proprio capito un cazzo Voi due mi sa Eh no Vi fare la Q dietro NIDA Ma mi vedevano mi sta facendo danno Lo sapevano che ero lì Guardate che si vede la sagoma quando subisci danno se sei invisibile Loro sapevano dove erano E dove andavo Se andavo dietro mi vedevano lo stesso Il cazzo è che fa il teleport Davvero stanno fa quello Come fanno a fare No non lo stanno facendo è possibile Ah lo vogliono fare Giusto 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 Giustissimo E' vero Anche il lato Nasus GG Mica meno raccordo Ah Sparisci Regà mi dovete dare una mano però Vai le Blanc Brava 800 di danno Porca puttana Vicario tutti Prendo i vostri culi pelosi Grass da 400 kg E li porto porca puttana alla vittoria Tutti vicario Cosa ha fatto a triggerare sto coso qua Qui dentro? No Boh Una ward invisibile ancora più invisibile dell'invisibile GG Cosa faccio ragazzi? Prendo i culi E li porto dove cazzo voglio io Alla vittoria Alla vittoria Damage Questa la vuoi vendere? Oh Chi ha sta bf Fieri che io ti amo Anche io mi amo Vicario tutti Con questo 11-3 shako GGVP Easy Dai che cazzo gli fa Stasci di merda Che gioca Asci nel 2018 Usciate sta lane Non potete prendere tutto lì Sono dei barboni Uno peggio dell'altro Questi Dai basta che poi sembra tossico Questa non la togliamo? La teniamo lì per bellezza? Vai vai tutto Io prendo Just a little bit closer Che cazzo è cosa pingarmi? Gankplank? Cos'è cazzo hai fatto? Figlio di puttana Dimelo in faccia Pingami in faccia Sei il coraggio Pingami adesso Cazzo mi pinghi Loro devono stare attenti a me Non io a loro Beh se è così che la mettiamo Allora bene Guardala che paura che ha Vado back E ci prendiamo la GA Comunque Ascia ha flashato Ottimo bait Fieric Complimenti Grazie 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 Fieric Per i complimenti Fieric complimenti ho detto Sei troppo bravo sto gioco Lo so Lo so La GP non piace essere cariato eh Vedendo la merda che ha fatto in top lane No Sicuramente non gli piace tanto essere bravo Non c'è nessuna hash da queste parti Sì Sì Va bene Va bene Va bene A casa Oh cazzo mi ha visto Dove cazzo va quello Oh mio dio Vado a fare questo Bella mi ha shottato Rip Mi ha shottato E io non avevo la ulti Ce l'ho adesso Alla chi Abbiamo regalato un sacco di cose Bella ne Bella Edo come stai Grazie mille del lost bro Lo smite E' vero che avevo lo smite Me l'ho dimenticato My bad cazzo Grazie mille Edo come stai Come va su scum Che cazzo fanno questi Eh freequel Not strongly farmed Cioè scusate ma Sei il cazzo di gangplank Avevi la E Ma non c'avevo un cazzo raga Non l'avevo La E l'avevo già usata Avevo lo smite Che non ho usato Quello è stato la mia debolezza Quattro mesi Non sei fiero di me Sono fieroissimo Come io Grazie mille Ma quattro mesi subati O quattro mesi regalati Non sei fiero di me Lull Lull Ma subati o regalati Guardiamoci chiaramente A me puoi dirle queste cose Dillo che te le hanno regalati tutti Allora che cazzo mi faccio qua Mi prendo questa Potrebbe essere un'idea Ma c'è Glitzcrank è il salvador Posso gentilmente averlo io Perché l'avete fatto resettare My bad Mi hanno baitato Quella cazzo di zonia schifosa Però non c'è più nulla Però da solo All'lucky Ragazzi raga Mi hanno baitato Però Questo è ciò che succede GG Assassins are fair By the way Io gioco ash E mi lamento degli assassins Non so se venderlo sto smite Sinceramente Ottenerlo ancora un po' Potrebbe servire Però con quella riduzione Dei danni Bella Drake Ti voglio bene Grazie Bella Stede big Chi si ribecca Edo dove sei? Aspetta mi hai riscritto Pagati Bravo ragazzo Scusa ma nel Nel mezzo di tutto Quel bordello che c'è Allora C'è un problema ragazzi Sto arrivando Nel late game Quello che A Shaco non piace Manca un po' Uno Madonna Vai Triangio tutto Per favore No skill cancer champs Attenzione Solo io gioco champion skillati Tipo ash Regà non ce la facciamo a chiuderla È bello Sarebbe stato molto bello chiuderla Lo ammetto Ma non ce la facciamo Bravo GP Che borbello Io devo essere Sei ma sono dedicato Su bari Dai Stede big Tranquillo Ma da quant'è che non passi Lel Che fine avevi fatto Boh Che cazzo di fine Avevi fatto Però Eh Mannaggia Dove eri Ho 500 di ad Ragazzi Che dite Tanto È abbastanza Per caso Ma raga Non posso più fare Gli ambush Perché Perché sanno Che sono qui Pinnacoli pendenti Ottima idea E questa Ah ma la prendo io Bella stacchina Bella zona Bella zona GG Che vi avevo detto ragazzi Gli prendevo il culo E glielo portavo alla vittoria E così è stato Andate pure a vedere gli altri streamer Andate Andate alla vincenza Andate dagli altri Tranquilli Tranquilli Tanto sono loro Che creano le partite E fanno un culo così Il team nemico Con un Con un pagliaccio Vero Eh Mamma mia Guarda qua GG Cazzo 28 lp Freschi Freschi Secondo in danni Con sciacco No skill champ Regà Questo dovete prenderlo Vedete questo Ecco Andate a vedere gli altri streaming Forza Mamma mia Ragazzi Holy shit Andate a vedere gli streamer Che non sanno giocare Per favore O che non prendono 28 lp A partita Cazzo Andate Andate Non andate da quelli Che hanno 500 800 1000 Viewers Eh Che non sanno giocare Che non sanno giocare